Ciao a tutti, sono El, benvenuti al mio canale. Senza ulteriori preamboli vado subito a trattare l'argomento che mi interessa in questo video, ovvero il fatto che Bridgerton sia definito una serie leggera. Da chi e perché? Allora, nei social ho visto tantissimi post di siti internet, video YouTube, così, comunque in cui in maniera scherzosa si indicano quali sono i momenti più trash della serie e immancabilmente nei commenti, soprattutto da parte di donne, ci sono delle difese a favore di questa serie, ma non tanto della serie quanto del fatto che la sia gradita. E di solito il termine imperante, quello che va a giustificare il fatto che questa serie sia amata è è leggera, spesso seguito da dopo una giornata stressante si ha diritto a vedere delle cose che non facciano pensare, dopo aver faticato, dopo una giornata di lavoro, si ha diritto a una serie che comunque dia contenuti leggeri appunto che permettano di rilassarsi. Ok, premessa, non è che io pensi che Bridgerton sia un capolavoro, anzi, non amo nemmeno particolarmente Bridgerton come serie tv. L'ho guardata abbastanza fatica, giusto perché amo i romanzi da qui sono tratti, da qui è tratta la serie, scusate. Anzi, li amo oggi assai meno di un tempo, però li trovo ancora piacevole, ok? Quello che vorrei spiegare con chiarezza, quello del motivo per cui tutto questo atteggiamento mi urta, è che vedo da parte di queste telespettatrici la necessità di giustificare il fatto che piaccia qualcosa che non è particolarmente profondo. Ora, voi ditemi, signore, quando mai avete visto degli uomini che si scusano per amare una serie che mostri donnine di scinte e motori tipo Fast and Furious? Li avete mai sentiti dire? Oh, è leggero, ho bisogno di staccare dopo una giornata di lavoro? Quando? E questa è la cosa in più che mi ha fatto riflettere. Questa cosa del stacchiamo dopo una giornata stressante, pesante. Come per dire che il diritto a farsi piacere una serie del genere arriva solo dopo che c'è una fatica dietro, cioè dopo che si è assolto a un qualche tipo di dovere, lavoro, famiglia o quello che è. E quindi, se una, per esempio, non lavorasse e non facesse un ammazzo nella sua vita tutto il giorno, allora che cosa? In quel caso non può farsi piacere una serie del genere perché ha il dovere morale di essere una persona impegnata e dedicarsi a opere più profonde? No! No! Non dovete giustificare il fatto che vi piaccia una serie che emette dei contenuti che sono diretti a un pubblico femminile. Contenuti banali, banali, ma non è una colpa da espiare. Non è che dovete dimostrare di aver fatto qualcosa per meritarvi questo tipo di contenuto. Questa è una conclusione a cui sono arrivata, mi ricordo, molti anni fa, quando lessi per la prima volta James Rollins, credo. James Rollins, penso. Un autore di libri di avventura. Mi ricordo che era nello scaffale di una libreria, insomma, insieme ad altri libri, tutti ben pubblicizzati così, e quindi io amo le storie di avventura, lo comprai e ricordo che lo mollai a metà o forse arrivai alla fine con grande fatica perché il protagonista era una specie di novella in Diana Jones in cui, che era affiancato da questa donna bellissima, procace, intelligente, che appena lo vedeva, andava in saluchero per lui e gli cadeva ai piedi. Quindi lei era una donna oggetto, anche se veniva trattata con rispetto, non è che andava in giro in costumini, ok? Però era una storia veramente banalissima, fatta solo per ingegnettire l'ego del lettore maschile che la stesse leggendo e non perché era una storia d'avventura, ma perché la protagonista femminile aveva la profondità di una carta velina e invece il protagonista maschile era, bello no, perché mai, sia mai che fai sentire inadeguati i tuoi lettori uomini, era affascinante, era intelligente, giusto, coraggioso, avventuroso e quindi era ovvio che una donna come lei, che pure magari era più intelligente di lui, credo che avesse un qualche titolo, dovesse innamorarsi di lui. Quindi se prendete una storia del genere al contrario e la mostrate a qualche uomo vi dirà ah è una storia da donne e quando viene detto questo in realtà è un termine denigratorio inteso così. E ora ditemi, che cosa c'è di diverso da una storia come quella che vi ho detto d'avventura a una storiella come questo Bridgerton qui? Banali entrambi, ma perché una vale meno dell'altra? Perché ci divertiamo a dire momenti trash? Ce ne sono, ce ne sono momenti trash in Bridgerton, ma non è che sono più trash di quelli che appaiono in Fast and Furious con le macchine che ingommano sul ghiaccio, che sono cose che fanno ridere, ma in questa società in cui ci ritroviamo quel tipo di risata ha più dignità di quello che vediamo in opere destinate a un pubblico femminile. E tante di noi, signore, ci cascano, ci cascano andando a dire che dobbiamo giustificare il fatto di amare cose banali. Cose banali costruite per solleticare le nostre fantasie. Qual è il problema? Gli uomini non si sono mai pentiti, non si sono mai vergognati. Ancora adesso il femminismo cerca di far notare qualcosa in questo senso e in genere maschile, in genere, non mi riferisco a voi signori che capite quello che sto dicendo, ma a tutti gli altri che sono ancora in denial, cioè che negano l'esistenza di questo fenomeno di cui parlo, ok? Però molti uomini ancora sono convinti che le loro opere banali e trash abbiano più dignità, un Fast and Furious abbia più dignità di un Bridgerton. No, sono sullo stesso livello. Non dovete vergognarvi, non dovete dire che avete fatto il vostro dovere in casa, avete fatto il vostro dovere di voi, madri, donne, avete faticato e quindi avete diritto a guardarvi una serie così. No. Esiste, vi piace, punto. Ed è una battaglia che mi piacerebbe portare avanti perché io, da tanto tempo, senza alcuna vergogna, dico che mi piacciono i romanzi rosa, quando tantissime donne comunque continuano a dire anche in questi post di cui parlavo ah no, a me Bridgerton non piace, preferisco, ieri ho letto una che diceva preferisco la casa di carta. E cosa c'entrano le due cose insieme? Oppure, ah no, ha detto Aris in Borderland, un'altra serie horror che tra l'altro mi è piaciuta parecchio, ma lo capite perché lo ha detto? Perché è una serie che stuzzica anche i gusti maschili, quindi è più dignitosa, quindi va bene dire che ti piace quella cosa lì. Siamo tutte vittime quando abbiamo questo terremore di una società maschilista, quindi basta giustificarsi. I romanzi rosa vanno bene se vi piacciono e non valgono di meno di altre opere banali, posto che non tutti i romanzi rosa lo sono, che in genere sono dedicate a un pubblico maschile o peggio, generalista, così diciamo. La verità è che quando Fast and Furious è pensato secondo chi lo realizza va bene anche per le donne, no? Perché a noi deve andare bene quello che piace agli uomini e non possiamo criticarlo e va bene così, è solo roba trash, mentre invece gli uomini se guardano una serie come Bridgerton hai da femminucce a momenti. Questo doppio standard è veramente insopportabile, quindi il mio invito è quello di non cascarci e non alimentare questa mentalità. Mi raccomando, non giustificatevi, si amate Bridgerton. Un conto è non capire che è banale e che comunque si poteva fare di più. Io stessa penso che il romanzo ad esempio abbia un livello di profondità differente per quanto, per quanto è sempre leggero. Ma basta andare a dire in giro eh sì, è leggero ma dopo una giornata stressante, potreste guardarlo anche se aveste passato tutta la giornata e tutta la vostra vita in panciolle, ok? Ed era questo quanto, fine del rant. Se vi piace il mio canale andate a guardarvi il resto dei miei video e iscrivetevi al resto dei miei social. Io faccio diretto ogni giorno su Twitch e su Instagram. E per quanto riguarda YouTube, questo canale iscrivetevi e cliccate sul campanello per essere notificati di tutte le novità. Grazie di avermi seguito anche in questo piccolo dibattito. Alla prossima!